Sette turni. Ha perso finora una sola partita a San Siro contro l'Inter, ma da neopromossa ha avuto un impatto straordinario con questo campionato. L'arbitro consulta Vist i propri collaboratori. Calcio d'inizio per la Fiorentina ora in possesso di Pallo Lippi. Per la Fiorentina ora Malusci. Quindi Carbone, lo stesso Robbiati, il tocco all'indietro di Battistuta. Il lungo lancio in profondità con gli attaccanti delle due squadre che ripiegano spesso e volentieri. E Rui Costa che naturalmente va all'impostazione per la Fiorentina. Il lancio però non è preciso. Prova l'azione di controattacco ora la Juve. Buonissimo il lungo. Tutta la sua ottima preparazione ora vediamo il Baiano che prova ha ottenuto dei risultati straordinari. Intanto qui il tentativo con il pallone che finisce a fondo campo da parte di Marzio Santos. A ribattere la sua conclusione. Ancora la Fiorentina. Carbone in profondità. Prova poi l'inserimento Baiano. Su di lui c'è stato l'intervento irregolare. Intelligente colpo di testa all'indietro da parte di Carrera che occupa la posizione. Grande speranza della Juve e dell'intero calcio italiano. Parte il lancio in profondità indirizzato intanto su Baiano che però è anticipato nettamente dai difensori avversari. Ora l'impostazione Ciro Ferrara. Battuta lunga con il... Viene ribattuta. E ancora il tentativo. Ferrara. Mette giù il pallone. Osserva la disposizione dei compagni. Taglia lunghissimo. Torricelli. Il tocco all'indietro è per Ferrara. Palla ancora sul destro. Nuova battuta lunga. Scavalcare il centrocampo. Disimpegna bene all'indietro. All'impostazione ora la Fiorentina. Copre però bene la Juve che si avvale anche. Nuova ribattuta da parte degli attaccanti della Juve. Mentre Marcio Santos che va alla battuta di questo calcio di punizione. Di smarcare poi Carbone. E la palla è ancora per il cross di Battistuta. Calcio di punizione che spiove in profondità. Il pallone poi viene controllato ancora da la Juve per il calcio di punizione che si è guadagnato Ferrara sul contrasto. Qui Costa. Solito sapiente maestro di palleggio a centrocampo. E su questa iniziativa c'è il fischio dell'arbitro Stafoggia che manda le due squadre negli spogliatoi. La controlla a vista. La situazione l'arbitro Stafoggia. Partiti per il giro. Ecco in azione ora Ciro Ferrara. Il suo destro. Profondo. A cercare l'inserimento. Estremamente delicata. Già abbiamo sottolineato la storica rivalità fra le due tifoserie di Fiorentina e Juventus. E Fiorentina che conduce per 2 a 0. Il rinvio di Angelo Peruzzi. Immediatamente ribattuto. Poi Ferrara che se la deve vedere con... Calcio di punizione battuto molto lungo. Ancora il fallo di Vialli su Marzio Santos. Determinante nel corso del primo tempo. Vedete che fa ponte. Vi ha nove anni. Intanto c'è questo lunghissimo lancio dalle retrovie. Il colpo di testa è rimesso laterale. I bianconeri. Ancora il pallone giocato. Ora sulla corsia. Ora è Ravanelli. Ravanelli ancora in profondità. Il tocco è fuori di Vialli. Vialli va in profondità. Effettua il traversone. Che viene ribattuto in calcio d'angolo. Con il corpo forse con un braccio. Anche da Marzio Santos. Semplice calcio d'angolo. Ballo il tocco di Marocchi. Vialli vedete in profondità. Fiorentina che ha suscitato le proteste dei giocatori bianconeri. Intanto qui l'azione è considerata regolare. Miracolo di Toldo sul colpo di testa ravvicinato di Vialli. Palla recuperata dalla Juventus. Era stato contrastato proprio da Ferrara in occasione del cross che poi ha portato al colpo di testa. Ecco che rivediamo l'azione. Vedete? Entra sul pallone nettamente Ferrara. Finisce magari per ostacolare anche l'avversario. E poi il suo cross. Proiettati in pressoché costante pressione offensiva. E quindi inevitabilmente offrono il destro. Il contropiede ancora la Juve. Pericolosamente in avanti. Il destro di Del Piero sul fondo. segue con grande attenzione. Viene fermato. Poi lancia ancora in profondità con Marocchi che lancia lungo corpo a corpo ancora tra Vialli. Muro della Fiorentina. Poi ancora Paolo Sosa con il destro a cercare l'inserimento del compagno di determinazione della voglia dell'agonismo. Parte il cross di Ravanelli. Il colpo di testa di Vialli. Stavolta non lascia scampo a Toldo. Rientra prepotentemente in partita la Juventus. Riprende. Prova ora la Fiorentina. Accelerazione a parte di Rui Costa che aveva cercato il rimuginando sul fatto di aver perso il doppio vantaggio. Ma è sul 2 a 2 tutto sommato. Lo si capisce anche dall'atteggiamento dei giocatori. Sapore di parentela più stretta con la sconfitta che con la vittoria. Vi ricordo che da quest'anno appunto 3 punti a vittoria. Ma la Juve ancora in avanti a terra Vialli. La posizione è considerata ancora irregolare. Calcio di punizione. Poi nella ripresa ha subito la tremenda aggressività della Juve che viene ancora in avanti. Spazza Marzio Santos. Il ritorno da parte di Malusci. C'è poco però sul piano anche delle energie da spendere. E difatti arriva il fischio finale del signor Stafoggia che sancisce la vittoria per 3 a 2 della Juventus sulla Fiorentina. Grazie.